Il nostro gruppo è nato tre anni fa per volontà di alcuni motociclisti qui argentani, parlo di Marco Ontolini e altri suoi amici. Il primo anno ci siamo trovati in 156 iscritti, parlo del 2007, anche l'anno scorso eravamo nello stesso numero. Quest'anno abbiamo già superato i 130 iscritti. È il terzo anno che noi organizziamo il motoroduno in piazza qui ad Argenta, i primi due anni l'abbiamo organizzato nella piazza Garibaldi del comune e quest'anno l'abbiamo organizzato qua. Il sindaco espressamente ce l'ha chiesta per farla qui perché ha visto che c'era più spazio e l'anno scorso eravamo un po' stretti nella piazza del comune. Siamo contenti, lo dico con certezza, siamo contentissimi della giornata anche perché ieri abbiamo montato sotto il diluvio universale. Oggi siamo contenti di tutta la partecipazione, degli amici che ci sono venuti a trovare da diverse località e da diverse regioni italiane e sperando di andare avanti contiamo di farne ancora. Penso ci siamo stati abbastanza contenti, il tempo ci ha aiutato, ci abbiamo cercato di organizzare per il meglio, si può sempre migliorare però tutto sommato pensiamo che siamo rimasti abbastanza contenti la gente. Diciamo di sì, probabilmente se il tempo fosse stato migliore i giorni precedenti sicuramente qualche persona qui sarebbe venuta. Si inizia quasi un anno per l'altro, poi le date sono sempre le ultime che ci vengono confermate e quindi l'ultimo mese è sempre invece più difficile. Sì, siamo molto soddisfatti visto la presenza degli appassionati che ci ha ringraziato per il nostro impegno per organizzare la festa qui in piazza del mercato d'Argenta. Sì, oggi abbiamo avuto nuove visioni, siamo arrivati come Motoclub a 100 iscritti, quindi buona soddisfazione, speriamo di raggiungere i 140 dell'anno scorso. Una festa di questo tipo inizia alcuni mesi prima con un progetto che è pieno di idee del nostro gruppo di consiglieri, si mette su carta e da lì si parte e ad ognuno si danno dei compiti per raggiungere poi per la giornata il raggiungimento di quello che siamo riusciti a fare. Sì, quello che ci aiuta diciamo di varietà è sempre la passione per la moto e cerchiamo la nostra pressione di poi trasmettere anche agli altri ringraziando per la partecipazione. Ci sono giovani e anche meno giovani, molti giovani no, potrebbero aumentare. Adesso sicuramente a fine giornata siamo soddisfatti con lo che abbiamo fatto, cerchiamo sempre di ripeterci con la passione che ci circonda e vediamo cosa riusciremo a fare il prossimo anno.